vero? si io non ci avevo pensato perchè lui ha attività, solo che è in Austria ma è uguale lui ti fa il contratto qua in Italia o in Austria, non lo so in Austria, ti fa il contratto di lavoro in Austria è sempre la Unione unione, puoi venire, si può fare l'ultimo e ora parla con Cristo è strano, la mostra anche noi non so vai qua, vai! biondo! fare video bello, lo sai? e crattati come la cimmia eh? bastardo tedesco bastardo